dimmi se è uscito il gioco dimmi se è uscito il gioco forza muoviti che me ne frega del caricamento muoviti non mi importa il caricamento ma porca troia quanto cazzo è questo gioco lo sto registrando ciao ragazzi per questo video sono Raffaele ed oggi mi sto incazzando perché non è ancora uscito sto cazzo del gioco sto cazzo del gioco qua lo sto aspettando da giugno giugno non è più giugno è giugno nuovo mese ok allora iniziamo con le news perché sto facendo così che le news è che lunedì caricherò un videogioco che però non vi spoiler mi spoilerò proprio nulla è un video gioco che è un gioco strano strano che l'ho registrato che però lo metterò soltanto lunedì perché siccome oggi devo fare altri videogiochi che oggi è che oggi è anche una furt e il finale di tosona il trezzo e che è uscito poche vando poche vando è uscito poche vando e io lo sto giugando perché sto gioco è bello 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 poche vando poche vando smetto l'altra cosa c'è che mi sono ricordato che devo un'altra volta a fare il mio raoni che sono rimasto la parte 4 dove c'era il passo devo ancora fare la notte la notte la parte 5 però beh io concludo che questo è quello che devo dire di questo è quello che devo dire di questo è tutto il casino che devo dirvi lo posso farlo scartaccio dei fatti perché troppo casino ciao ciao